Spostiamoci sulla discussione. Zingaretti, Di Maio, Conte, Tridente, loro malgrado i leader della maggioranza costretti a resistere per non tirare la volata a Salvini. Le partite che i tre giocano sono diverse ma convergono nel risultato di tenere unita una maggioranza senza alternative se non quella delle elezioni anticipate che se si svolgessero a breve avrebbero l'esito scontato di consegnare alla destra il governo dell'Italia. Questa è l'apertura del quotidiano, la discussione.